Che stai a fa? Un video. Perché? Sei il mio toxi. E dove stiamo andando? A scuola. E lo dici contenta o triste? Eeeh... Sei contenta? Mica tanto. Cosa abbiamo fatto fino a un minuto fa? Un quadra un po' sulle tue gambe che cos'hai. E' un cartellone che appenderete... Dove? Sul calciario. E cosa c'è scritto? Non fate la guerra, fate... L'amore. L'amore. Sensibilizziamo un po' tutti quanti, anche se... Serve a ben poco. Giusto? Già. Scusi. Tu sei un ricerche... Fai il ricerche artistico, Aurora. E hai fatto comunque un'opera d'arte. O non riesci a non essere precisa, eh? Sì. Neanche con un cartellone. Ma chissà i miei cuoricini, dopo glielo me ando questo video, va? Ma che dici? Ma sì... C'è un po' che non mi faccio sentire, che non sono stata neanche bene, nero, Aure. Già. Per l'obbligo che mettono, così è. Così fu. Adesso scuola? Tipo già dentro. Sì. Non lo vedo. Non lo vedo. Fino a... Non esce. Eh. Ma che ora esce oggi? Io, quattro. Oh. Quattro? Ah già, dieci. Sì. Capito? Faccio da tassista io, eh. Chi più fortunata di te? Quando fai le otto vai? In moto. In moto. Col papà. E quando fai le dieci con la mamma? Certo. Il ritorno invece sei babazza, te la fai a per. Sì. Con il tanto di busse lei se la fa a piedi. C'è troppa gente. Hai ragione. Brava. Ho insegnato bene, dai. È vero o no, Curiciosi? Oggi facciamo un video diverso, così vedete anche un po' il tragitto della vera Milano, perché noi siamo in un quartiere che è a dieci minuti dal centro e tutto quanto, vero, Aure, il Duomo, però si chiama quartiere verde, cioè lo chiamiamo quartiere verde, no? Si chiama, perché è tanto bel, c'è tanto bel verde. Guarda se mi dà la precedenza, passa col rosso, non mi fate dire le parolacce che poi i miei cuoricini, ah, neanche scusa, scendiamo col cricca, ui. Vapiti. Vabbè. Vediamo cosa è arrivata. Oh, scusa. E guardavo il tuo lavoro lì. Sono curiosa di vedere il colore dei tuoi jeans quando lo farei. No, vabbè, sono puliti, sono puliti. E non male. Eh, vabbè. Prima ora cosa c'hai? La verifica. Di grammatica? Già. Cosa ne pensate voi, secondo me? Secondo me? No. E' nervosa, è nervosa. Ci sono dei professori che la fanno arrabbiare. Vero, Gioia? No. Eh, come nel mondo del lavoro, c'è sempre che ti fa fuori arrabbiare. È vero? No? Eh, vabbè, gli dici ciao ai pollicini che siamo arrivati? Con la solita manina. Ah, vi dico solo una cosa e perché siamo quasi arrivati. L'altra sera, io e il maritozzo, il Modigliani, io non stavo bene e lui neanche. Aurora ha fatto il pollo al curry, le taccole col sesamo e il purè, tutto da sola. Era un po' sciapetto, eh. Ma era tutto buonissimo. Quindi, l'alliego sta superando il maestro. Arrivati. Bacetti in aria.